spettacolo ritmicamente natale. Quest'anno per una migliore organizzazione abbiamo suddiviso il saggio in due turni, quindi in questo primo spettacolo vedrete solo una parte delle atleti della nostra associazione sportiva. Se siamo tutti pronti, se le iscrittrici mi danno segno che le bambine sono tutte pronte, entriamo subito nel vivo della nostra festa con la coreografia delle atlete dell'agonismo gold allieve. In pedana Alessia, Chiara, Martina, Daniela e Alessia. You're a mean, Mr. Bench, you really are a heal. You're as kindly as a cactus, you're as charming as a meal, Mr. Bench, you're a bad banana without gracy, but I should hear you. Just raise the music you're a monster, Mr. Bridge Your heart's a guarantee Your brain is full of spiders You've got garlic in your soul Mr. Bridge I wouldn't touch you With a 39 and a half foot Oh You're the one Mr. Bridge You're a nasty, wacky scum Your heart is full of dark Your soul is full of dark Mr. Bridge Oh 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 ZZ Crocodile ZZ Crocodile ZZ Oh Oh Grazie